non lo chiamiamo più water giurate allora tre campari batterino l'ho trovata chi la maestra di pianoforte e cosa ne facciamo di una maestra di pianoforte cosa si fa con una maestra di pianoforte si prendono lezioni ti volevo chiedere se ti piacerebbe uscire mica con te scherzi mica con me ragazzi vi presento la mia fidanzata quanti c'è la beatrice ciao la conoscete già nel suo piccolo quando è che si sposa fra tre mesi allora forse siamo ancora in tempo perché non guardi avanti è che sono linfomane cos'è è una malattia incurabile ma non doveva essere lì uno scherzo se hai fatto lo scherzo a noi no me l'avete fatto voi e me lo scherzo no 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 no